Un convegno su un lavoro nero in Portuni, organizzato e promosso dalla Cisle, perché? Intanto perché è un fenomeno davvero vasto ed è un fenomeno grave nella nostra provincia. Peraltro noi abbiamo intitolato questa iniziativa il lavoro rubato perché in un qualche modo c'è da ampliare il concetto classico del lavoro nero. Il lavoro rubato implica il lavoro cosiddetto grigio, cioè quello regolarizzato solo parzialmente, il lavoro sommerso, il lavoro camuffato da prestazioni d'opera o da contratti di associazione. Come dire, una realtà variegata, sfaccettata. Questa è la ragione del convegno e soprattutto poi per proporre anche come affrontare questo problema. Quali sono le proposte? Beh, non c'è dubbio che da un lato occorre consolidare, continuare sul controllo, sulle denunce, sulle sanzioni, su questo non c'è dubbio. Però è necessaria una spinta che definirei etica perché bisogna battere l'idea che tutto ciò che è possibile è anche lecito. E poi ci vuole una spinta decisiva perché istituzioni e parti sociali inizino a collaborare strettamente e le cose da fare ci sono e sono molte. Intanto, lavorando in treccio, si può comprendere meglio il fenomeno e le cause. Poi è possibile, come dire, concertare insieme le possibili soluzioni per ridurlo. Per esempio, trovare strumenti per far emergere il lavoro nero, anche perché no, visto l'obiettivo importante, con incentivi per le aziende che si volessero regolarizzate.